La vacuità è il vuoto, tutto quello che c'è in questa stanza è il vuoto. Cosa vuol dire questo? Se busso con la mia mano sul muro, sento dolore, delle nocche, il muro sembra reale. Qual è la base per pensare che sia reale? Che è duro, ha un effetto sulla mia mano. Ma se io ho un martello, posso batterci sopra fino a quando il muro comincia a spicciolarsi. Quindi il muro è reale e normale in relazione alla mia mano, ma è distruttibile se lo metto in relazione con un martello. Quindi la realtà, quella che io considero la realtà del muro dipende dal modo in cui io mi ci avvicino. Non ha un'essenza di per sé, il muro. Rimane così com'è in base ai fattori della sua manutenzione. Per esempio, cento metri più avanti, lungo il sentiero, c'è un edificio che sta crollando. L'edera, c'è dell'edera che ci si sta arrampicando. Ci sono alcuni buchi nel tetto. E sicuramente basteranno pochi inverni così per far crollare il tetto. Sembra una fattoria. Possiamo immaginare che ci abitassero dei bambini, che siano cresciuti dei bambini. Ci fossero dei polli, dei maialini. E adesso invece sta per crollare. La casa è stata creata. Mentre era lì ed era abitata. C'era qualcuno che puliva le finestre, che dipingeva le cornici delle finestre. Questa è una casa. Questa è la mia casa. Sembra appare come qualcosa in se stessa. Ma per qualunque causa e condizioni in questo momento nessuno la abita. Quindi mancano le cause della manutenzione. Quindi sono più presenti le cause della distruzione. Queste cause, queste forze sono dinamiche. Ovviamente se avete una casa dovete prendervene cura. Sempre le case richiedono riparazioni. In un posto come questo con venti forti. Anche una piccola crepa nel cemento. Quando piove il vento può spostare la pioggia lungo le travi. E così anche il legno comincia a corrompersi. Ho un'esperienza personale a casa mia. Mi sono chiesto, ma come è possibile questa perdita d'acqua? Abbiamo guardato dappertutto con i muratori. Ci siamo resi conto che in realtà la perdita era 8 metri di distanza. Ma era poi il vento che spostava la pioggia. Quindi questi fattori dinamici in movimento mostrano proprio questa natura illusoria del fatto che lì c'è una casa. La termine casa è un termine che utilizziamo per indicare un qualcosa che ancora non è crollato. Questa valle è piena di case che stanno per crollare. Perché ormai gli agricoltori non vogliono più vivere in questo modo. Dov'è l'essenza della casa? E risiede nel concetto di casa. Se avete una casa, è la vostra casa perché avete un documento. E la validità di quel pezzo di carta è nel registro del catastro. Quindi il notaio. Lì avete effettivamente quella proprietà è vostra. E ciò che è stato fatto da un notaio. È la mia casa. Però ogni anno bisogna pagare delle tasse alle comunali perché io possa vivere in quella mia casa. Perché la proprietà comunque dipende da una relazione. È dipende proprio dal fatto che escano fuori del denaro e che rientrino delle risorse. Niente di quello che c'è in questo edificio, neanche questo porco, è autoesistente. Possiamo morire noi esseri umani per tanti tipi di cause. Malattie del sangue, malattie del sistema limbico, malattie del cuore, dei polmoni. anche per una ferita al pollicione. Per esempio, un piccolo taglio. E lì nasce la septicemia. Si muore molto facilmente. La morte è disponibile in tutte le direzioni. Perché non c'è un'essenza che possa allontanare da sé questa condizione distruttiva. Quindi cerchiamo di mantenere la nostra buona salute. Maggiar bene. Fare esercizio. Facendo queste cose Criamo delle condizioni che ci consentono di mantenere più a lungo la nostra esistenza. Questa è l'attiva manutenzione della nostra esistenza. Se non facciamo queste cose probabilmente moriremo prima. È incredibile. Senza sforzo il corpo si decompone. Quindi quando diciamo il corpo è vacuo, è vuoto vuol dire che non c'è un garante dell'esistenza all'interno. Nessuno di noi sa quanto a lungo vivrà. domani se la neve sarà gentile forse arriverò all'aeroporto. Sfederò in un aeroplano che in fondo è una scatola in una scatola dove la gente tossisce o starmutisce. È molto facile raffreddarsi in un aeroplano. E qualcosa di piccolo uscirà dal loro corpo e entrerà nel mio. E questa è la nostra vita. siamo infettati. Il mondo entra dentro di noi. Abbiamo sentito che in Brasile ci sono queste nuove zanzare che stanno creando molte difficoltà. qualcosa che vola e all'improvviso tuo figlio non sta più bene. Ecco cosa vuol dire la vacuità. non vuol dire che non c'è niente. Ma semplicemente che tutte le forme sorgono all'interno e in quanto parte una matrice interattiva di fattori. ad esempio adesso mi sto grattando l'orecchio quindi ho un orecchio agisco sul mio orecchio ma i fattori che sono le cause non sono no no. Can you repeat the... Ok. So, but the causal factors i fattori causali it's not like there is a thing somewhere doing something do something else. Non sono qualcosa che fa qualcosa a qualcos'altro. Perché se dico mi sto grattando l'orecchio l'orecchio è attaccato alla mia testa ovviamente c'è la connessione di un nervo con la testa e quindi c'è una connessione col sistema nervoso. ma il sistema nervoso non è una cosa è un sistema di movimento il cervello è dinamico anche la spina nasale è un movimento che invia messaggi di continuo. quindi un qualcosa che potremmo chiamare sistema non certo una cosa un sistema in movimento a cui io rispondo grattandomi l'orecchio io mi gratto l'orecchio ma chi è che si sta grattando l'orecchio? chi è che sta facendo questo? Dov'è l'essenza di James? Per qualche ragione qualche sensazione richiede alla mia mano potrei anche farlo senza pensarci come quando stai leggendo qualcosa delle carte dove c'è una zanzara semplicemente la lontani c'è un sistema vasto integrato di informazioni in cui ci sono dei punti chiave nodali che possiamo identificare come delle identità ma sono semplicemente movimenti di manifestazione ecco questo è il significato della vacuità significa manifestazione 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 manifestarsi interazione una manifestazione una manifestazione come gioco di schemi energetici quindi quando ci svegliamo la mattina diciamo buongiorno vediamo gli altri volti vediamo i volti ci siamo visti il giorno prima però diciamo ancora buongiorno le circostanze le circostanze le cause ci portano a ripetere questa parola ad uscire dalla nostra bocca e poi gli altri rispondono questo parlare viene evocato, viene chiamato qualcosa evoca questo movimento che sorge non sta arrivando da una fabbrica per sprivata che si trova dentro di noi ma compare qualcuno e noi ci ritroviamo a rispondere questo è il potenziale non formato della nostra mente che dà origine ad una forma particolare che è lì per un istante ed ha origine alla forma che sorge da quella che noi chiamiamo essere un altro essere umano ma non c'è una essenza nell'altra persona c'è una disponibilità per esempio quando si stava scaricando la batteria di quella videocamera abbiamo inserito il cavo dalla spina fino alla videocamera l'energia elettrica è un potenziale la fornitura di energia elettrica è un potenziale che a causa di cause e condizioni che vuol dire o qualcuno c'è lì che ha riconosciuto il fatto che stesse finendo la batteria questo significa un sistema umano che ha avuto questa sensazione che ha risposto e che si è messo in movimento per e quello ha permesso di rilasciare un potenziale di fornitura di energia elettrica fino alla videocamera ed è così che funzionano le nostre stesse come un flusso di comunicazione le piante hanno delle radici che prendono l'umidità e il nutrimento hanno foglie che hanno relazioni con le sostanze chimiche nell'aria e poi ci sono fiori che attirano gli insetti che volano nell'aria sono energie gli insetti hanno una sensibilità rispetto all'odore del polline noi non ce l'abbiamo non siamo sintonizzati ogni creatura è come una radio il cielo è pieno di onde radio ma dipende da come noi siamo sintonizzati poter prendere quelle onde per esempio la vespa la vespa è sintonizzata con radio polline ma ci sono tanti altri potenziali intorno eppure noi non rispondiamo a questi potenziali quindi il nostro potenziale e il potenziale dell'ambiente ha particolari movimenti ecco quello che indica la vacuità nel buddismo non vuol dire che non ci sia nulla ma è uno schema incessantemente mutevole che si manifesta che si manifesta che si manifesta che si manifesta in continuo 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 quindi non troviamo nulla in questo sistema che abbia una pelle esterna sicura o un'essenza interna chiara per esempio nella mia stanza nel mio bed and breakfast c'è un termosifone mi sono svegliato presto questa mattina il termosifone era freddo e mi sono accorto che era aperto questo termosifone è collegato con il termosifone e tra il termosifone e il termosifone qualcuno ha fatto qualcosa in mezzo quindi io ho a che fare con il mio termosifone nella mia stanza mentre il proprietario della B&B è preoccupato delle bollette della casa quindi qui abbiamo due vettori di interesse che sono in conflitto tra di loro tutto è come è ma solo come un arcobaleno non puoi afferrare un arcobaleno eppure pensiamo di poter tenere un libro sì adesso ho un libro in mano ma il libro ha un significato solo se lo apro e lo leggo per leggere un libro ho bisogno di schiavizzarmi a capire i significati delle parole e però dico ho preso il libro ma ha senso solo se è il libro ad afferrarmi questo è il nostro mondo ti innamori di qualcuno e sono loro che invece ti afferrano com'è che sono sotto il tuo potere? questo è ciò che immagino è proprio per questa interconnessione di forze e non c'è niente lì però c'è nel famoso Sutra del Cuore si dice la forma è vacuità la vacuità è forma tutto qui è forma vediamo forme e colori ma non sono autoesistenti tutto questo edificio è stato messo insieme dalla mente il legname è stato tagliato e messo insieme ai modi particolari questo edificio è una costruzione mentale e esiste nella mente come esperienza da questo punto di vista non esiste nulla fuori dalla mente se voi immaginate di avere la mente all'interno del cervello all'interno di questa scatola è difficile capire e pensare che tutto sia qui dentro nella mente ma quando ci poniamo questa domanda dove è che la mente risiede, da dove arriva? la mente non è una cosa è uno spazio di consapevolezza all'interno del quale si manifesta l'esperienza non ha una parte superiore o una parte inferiore sentiamo ad esempio un aeroplano nel cielo immediatamente abbiamo l'esperienza del aeroplano nella mente a scuola abbiamo imparato i suoni le onde sonore che attraversano l'aria quindi non lo connection però se siete all'interno di uno di un in una coppia sottovuoto in un contenitore sottovuoto non c'è un'umore non c'è nel medio per la vibrazione di suoni Non può passarci il suono in un quattro vittore sottovuoto. Quindi come faccio a sapere che è un aeroplano perché sentiamo il suono che attraversa con le sue vibrazioni e arriva all'orecchio e all'orecchio la mente. Questo è molto pensiero, questa è una narrazione che dà delle spiegazioni, questa è la narrazione che riceviamo dalla scienza materialistica occidentale, sentiamo il suono e lo sentiamo lì. Questa è la nostra esperienza immediata. La mente vede le cose dove sono perché è uno spazio di rivelazioni. Se volete capire quali sono quelle cose, cosi sono quelle cose, ne date un senso creandovi una storia interpretativa. Ma la storia interpretativa avviene dopo l'immediatezza dell'esperienza. Quindi più esaminiamo la nostra esperienza, momento dopo momento, abbiamo questo flusso di esperienza. Tutto questo si rivela all'interno, attraverso e come la mente attraverso cui si rivelano le esperienze. Per questo che in tutti questi testi mahamudra tantrici, in Zogchen si dice che la mente non è nata ed è incessante. Vuol dire non essere nato che non è nato come qualcosa. Niente che si possa trovare. Eppure si manifesta incessantemente. Allo stesso modo con questa immagine non potete trovare lo specchio. Lo specchio non è nato, è non nato, ma da nascita genera un cessante flusso di esperienze. Ma siccome nascono queste esperienze all'interno di questo specchio è come se anche queste esperienze fossero non nate. Quindi la cosa più importante è potersi fidare di questa pienezza dell'esperienza. E questa pienezza è inseparabile dal vuoto. Quindi questo è quel vuoto pieno. È pieno, completo nel suo vuoto, nella sua vacuità. E allo stesso tempo è vuoto e non nato e completo nel suo non essere nato. Molto brevemente nel verso 15 c'è scritto La mente è vuoto e non è composta, non è un costrutto. ed è libero dalle quattro nozioni limitanti che sono l'esistenza e la non esistenza sia esistenza che non esistenza né esistenza né non esistenza e tutte quelle elaborazioni concettuali di cui è capace la nostra mente. Quindi, ritornando all'immagine dello specchio il riflesso non lascia alcuna traccia sullo specchio. se anche sorge un bellissimo riflesso all'interno dello specchio non è che lo specchio venga migliorato nelle sue qualità e anche se dovesse sorgere un orribile disgustoso fenomeno all'interno dello specchio lo specchio non è verrebbe contaminato o corrotto il riflesso è all'interno dello specchio in una intimità completa con lo specchio eppure non tocca lo specchio intimo ma senza che lo tocchi senza che lo cambi, senza che lo marchi nello stesso modo il contenuto i contenuti della nostra esperienza i contenuti della nostra mente sono inseparabili dalla nostra mente completamente in intimità sentiamo delle sensazioni, sono le nostre sensazioni ci sentiamo stanchi, affamati, dobbiamo fare pipì oh, sono io e poi un momento dopo nuove altre esperienze nel momento in cui l'esperienza sorge sono io e poi va e non è più me e non lascia traccia se ci apriamo a questo senza rincorrere le esperienze passate senza attendere con aspettativa quelle successive l'esperienza si libera da sé si autodissolve da sé per esempio adesso è arrivato l'ora del pranzo potreste sentire già un po' di fame e sapete cosa vuol dire sentire questa sensazione qualcosa nel stomaco, qualcosa nella bocca voglio mangiare poi dopo aver mangiato non vogliamo più mangiare eppure avete detto che volevate mangiare siete inaffidabili completamente ed ero mai più cibo è la nostra esperienza siamo pieni e poi qualcos'altro e poi ancora qualcos'altro la mente è la mente è vuota e non nata e continuamente e cessatamente manifesta nuove possibilità ok avremo una pausa forse non sarà così facile uscire nel pomeriggio cosa ne direste di avere una pausa più breve cioè tornare alle due e mezza e continueremo con il test 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 in pratica e tornaremo lentamente a queste domande dove è la mente? e così via torniamo gentilmente a queste domande dov'è la mente? e così via grazie grazie